E' il senso che Dio non abbandona e anche se pare che siamo in grande difficoltà, poi quando ci si rimette insieme, la Madonna ha la capacità, la Madonna è il conforto, ha la capacità di rimettere insieme 40.000 persone, amici, chi ci riesce a fare un affare del genere? E credo che sia un momento di speranza che dà il futuro. L'icona sacra della Madonna del conforto quest'anno avrà una luce diversa, merito del restauro promosso dal Rotary Club Arezzo che ha ripulito l'urna che contiene la terracotta più venerata dagli aretini. Il lavoro è iniziato i primi di gennaio e giustamente noi dovevamo portare a termine questo service entro oggi in tutti i modi perché era una cosa fondamentale, quindi le restauratrici secondo me sono state eccezionali perché oltre a lavorare in maniera con grandissima qualità hanno portato a termine in tempi brevissimi quest'opera. Io devo dire, l'ho detto prima, che sono felice come presidente di questo club a cui ho l'onore di rappresentare ma sono felice come aretino e come uomo di fede poter vedere quando si riapri la mattina alle 7 di immagine della Madonna splendente in questo modo. L'immagine, come sappiamo, è legata alla storia della città da una leggenda che narra di Arezzo distrutta dal terremoto fino al ritrovamento della Madonnina. Tra fede e storia la verità è comunque che ogni anno migliaia di aretini raggiungono il duomo per venerare la Madonna nella sua cappella. Anche l'urna, una storia particolare, nasce dalla volontà dei fedeli di donare l'argento che avevano a disposizione nelle loro pur povere abitazioni. Ecco lei ci ha raccontato la storia di questo argento, circa 6 chili, che la cittadinanza aveva donato. Erano anche momenti piuttosto duri, insomma, per realizzare questa urna. Sì, certo, perché, allora, dagli iscritti che ho trovato, la cappella della Madonna del Conforto a oggi è la cappella mariana più grande in Italia. Quindi nel momento in cui cessarono i terremoti, il terremoto, le scosse, e quindi la comunità aveva il desiderio di creare questa cappella per questa Madonna, per questa terracotta, diciamo che poi l'urna è stata una conseguenza. Così gli aretini hanno poi partecipato alla costruzione, insomma, e con appunto l'argento che probabilmente avevano in casa non coloro, almeno lì c'è scritto. Era molto sporca? Sì, il nostro è stato appunto principalmente un restauro conservativo di pulitura, di pulitura di tutte le superfici metalliche, quindi della lamina dorata, dell'argento, che era quello più ossidato, che si era più scurito nel tempo. È stato un lavoro di restauro interessante proprio perché abbiamo fatto dei test, diverse valutazioni per capire i materiali più idonei e la metodologia più corretta da seguire su questa preziosa e importante opera. Siamo sì soddisfatte del risultato perché diciamo che abbiamo ottenuto senz'altro un livello di pulitura molto vicino, cioè siamo riusciti a riportare quell'aspetto originale dell'opera. La terracotta invece è conservata bene? Sì, la sacra immagine della Madonna del Conforto, sì, abbiamo fatto un controllo e risulta ben conservata. Non ci sono problematiche, abbiamo fatto una semplice spolveratura per poi riconrocarla all'interno della teca. E il Vescovo di Arezzo ribadisce anche in occasione di questa festività il suo messaggio per Arezzo. Quando si tratta di Arezzo io credo che l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, che ognuno ha diritto di pensarla come mi pare, però quando si tratta del bene comune nessuno si deve tirare indietro, bisogna puntare sul bene comune. Non si può essere, fare marginare la città significa che chi paga di più sono i poveri.